ciao a tutti sono federica e bentornati su the evil within voi mi volete tanto male e io continuo questo dannato gioco allora wow bellissimo sì ma col cavolo che ci passo io qua sarà una trappola dc non lo so a me sembra un monumento vederlo così però non voglio scoprirlo topi 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 seguiamo i topi topi hanno sempre la soluzione o gel qui ce n'era un altro se non sbaglio sì mi ricordo già più i tasti altro gel va bene no io quasi quasi proverai la stradina di qua è una cosa dammi la pistola ora qui c'è una trappola e se c'è la trappola vuol dire che ci sono nemici una bottiglia sento dei rumori non molto simpatici che cos'è sto schifo di rumore wow guardate questo essere in tutta la sua bellezza c'è qualcosa che si muove sulla schiena ma voi non fateci caso potrebbe essere una larva o qualsiasi cosa o questa porta è uguale a quella che c'è nella stanza dove vediamo l'infermiera è il simbolo che c'è su quella dannata stanza allora cosa devo fare qualcosa cosa wow no 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 assolutamente no ciao 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 aia maledetto no no non voglio saperlo me ne vado di qua mi sento più sicura da questa parte basta abbiamo finito ok torniamo di qua spegne sta torcia qui questa è una vera e propria trappola si può usare guala sì è un po lenta eh però si può usare magari dovevamo usarla con quel tizio ok va bene quasi quasi mi metto una siringa perché sto per crepare dobbiamo andare di qua no 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 come non detto ma no ma figuratevi cioè non gli ho fatto nulla ragazzi ciao aspettate aspettate che mi sto agitando ma porca misera possibile che non riesco a fargli nulla si titoli bruciate non ho fiammiferi davvero seriamente non posso fare nulla vediamo se riesco a usare sta trappola vai 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 però e voilà risolto tutto ragazzi lasciatemi un bel po' di gel questi me ne hanno lasciato di gel no mi hanno lasciato munizioni e basta ok va bene vediamo ah no si è richiusa la porta sennò potevamo vedere se c'era qualcosa dentro va bene se io la riapro mi esce altra gente o possiamo andare avanti ok cos'è scattato ah cacchio non posso uscire allora aspettate un attimo voglio vedere se ho posso fare qualche no ne ho zero me ne è rimasto uno da ciecamento e tre arpioni eh cavolo non sono messa molto bene porca miseria aspettate procediamo con calma perché là ce n'è uno cioè è inutile che fa finta io lo vedo che è lì top no non sono riuscito scusate non l'ho visto no 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 ma aspettate ok amico ma che cacchio che problemi ha questo tizio questa la posso usare e voilà è un po' buio questo pezzo ragazzi non so guardate tutte le schifezzuole che rimangono appese sono un po' a corto di di proiettili e tutto di dardi non so quanto questa cosa sia perfetta cos'è ah un'altra di quelle teste ok sì prego ah sì perfetto ok allora posizioniamo la testa da che parte va qua ok direi di fare una ancora uno cappatina a salvare prima di tutto per non rischiare ok già che ci siamo vediamo se possiamo potenziare qualcosa mi servono dei dardi dei pezzi per fare i dardi perché non è possibile allora qui non posso fare nulla tranne vediamo del fucile tempo di ricarica no 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 scusami la portata e il tempo di ricarica riserva ah posso aumentare le munizioni della pistola le munizioni del fucile le bombe a mano non le aumento perché tanto non ne trovo in giro non ha molto senso ecco magari aumentare un po' questi qua che fanno un po' schifo mettiamo l'arpione al momento ho tre arpioni ok speriamo che il danno sia sufficiente però va bene verifico solo se c'è qualche giornale qualcosa ha dimenticato qualcosa no voglio solo salvare prima di procedere grazie per avermelo chiesto voilà andiamo ci manca un'altra testa eccoci qua quindi noi abbiamo fatto questa porta giusto in teoria si dovremmo fare l'altra di là questa qua perché c'è del fumo viola aiuto ok ho paura a passarci proviamo a vedere se questa cosa blocca cosa devo fare ah devo tenere premuto posso anche continuare a cliccare va bene ok mi serve perché tra un po' mi darai solo ste cose spegni sta torcia allora non abbiamo più oh cacchio allora ipotizziamo cosa sta per succedere io colpisco quel tizio comunque mi avvicino e si libera le porte si aprono le porte a destra e escono una marea di nemici e io non ho nulla con cui batterli tutto ciò è emozionante potrei provare a usare le bombe a mano a questo punto una ne ho però oppure il cecchino che ho un bel po' di proiettili perché non ho non ho altro al momento ho un arpione posso provare a tirargli una bomba a mano nel caso vediamo troppe porte troppe troppe porte aspettate ok uno è schiattato l'altro ci proviamo dite che è morto io sento che ce ne sono altri e ho paura ad avvicinarmi oh 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 eccoli allora in teoria posso entrare dentro per recuperare quello che c'è aspettate però qui si va giù oh bomba posso sfruttare la bomba voglio vedere madonna mia ma quanto è grande sto posto se cos'è allora voi addio sicuramente ciao ciao schiattate siete morti bravi ragazzi poi qua c'è una sedia strana con un arpione penso dietro qua si scende che cacca cos'è sta roba iuto si è mosso ma cos'è dietro non mi sembra ci sia nulla va bene io voglio entrare qua qui mi sa che ah ok posso entrarci qua e ok quella la apro e sfrutto la bomba per ucciderlo aspettate prima recupero dalle altre parti se c'è roba c'è un'ascia ma no meglio di no e di là si scende c'è una scaletta lì ok allora vediamo di come faccio ad aprirlo se cosa così vieni 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 dai piccolino ok si si prova a rialzarti ti spacco la faccia ok vediamo cosa c'era qua proiettili e dei certificati di battesimo guarda c'è anche Federico Roca ma chi è questa gente ah li battezzavano qua sopra molto interessante va bene via voglio vedere cosa c'è qui ok vediamo qua mi controllo su perché non so cosa ci sia in giro ecco vedete vedete che c'era qualcosa che non mi tornava allora io voglio provare però a prenderlo sto coso perché ho bisogno di dardi altrimenti vabbè esplodo amen oh cavolo che ansia ogni volta aspettate che faccio un dardo di qualcosa no non posso fare il mio bell'esplosivo accecamento e arpione faccio arpione va là ok allora voglio andare lì per recuperare visto che mi hanno lasciato una sirica voglio andare a recuperarla wow quanta roba c'è qua dentro no no recupera oh mamma mia cioè mi stanno preparando la cosa ok basta quelli non me li farà cogliere perché sono al limite va bene ok proviamo a scendere sotto posso fare un altro dardo sempre due ne ho però e faccio un altro arpione amen vai ok lasciami la mia pistola scendiamo incuranti delle difficoltà spegni sta luce cos'è cosa cosa what come salve no no oh porca di quella no no le cose a tempo no io le odio no 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 io le odio le odio le odio aspettate qua c'è la roba no 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 però no non mi pot porca di quella non mi potete fare sta cosa però aspetta aspetta dai vai 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 dai dai ok ah grazie a dio erano solo queste due oh mamma no è troppo un casino allora ok cosa c'è in giro io come esco da qui adesso qua sotto c'è una strada e va bene non è molto invitante aspetta accendi la luce che vediamo se c'è qualcosa qua non mi pare ok allora dobbiamo per forza scendere qui aspettate che ricarico dammi l'arpione stavolta no 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 ricaricato vai dammi l'arpione come scendo da qui scusate ah c'è la scala lì mamma mia che ignorante no le cose a tempo no non me le potete mettere io entro in panico con le cose a tempo non ce la faccio sì perché mi ha fatto il checkpoint mi fa paura simbolo del checkpoint allora lì c'è una bomba non so per quale motivo per questo motivo no 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 porca di quella paletta no 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 non mi parlate per favore aiuto 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 allora dovrei stoppare perché siamo già a 20 minuti però voglio voglio finir finire questa parte vedere se riesco a trovare l'altra ho sentito rumori ce ne sono altri porca miseria voglio vedere se riesco a trovare l'altra testa allora oh questo mi ha lasciato gel grazie l'altra testa prima di stoppare allora devo cambiare fucile però no ho ancora due colpi perché non lo so sono fuori di testa accendi la luce anzi fai una cosa rispegnila sto incasinando quei tasti ragazzi no no quanto è lungo sto pezzo ma perché cos'è sta zona ma perché è immensa qui c'è una una bomba ma c'è roba da prendere qua ma perché mi mettono le grate che io non so dove devo andare qua c'è del ge però allora aspettate un attimo ho una sola siringa quindi io non rischierei di prendere quella bomba non voglio assolutamente rischiare scendi la luce non mi sembra ci sia nulla qua qua è chiuso ah aspetta se entro qua mi blocca tutto porca miseria e allora spero mi faccia un bel checkpoint così stoppo sì perché di qua non c'era nulla scusate c'è una bomba ma non vedo non vedo niente non si può passare qui va bene allora proviamoci facciamo un altro pezzettino ok eh non lo sapevo io avrò tipo avvisato diecimila mostri che sono qua c'è una trappola questa però la disarmo perché perché se bastia non è in grado di saltare anche se me ne pentirò perché si riempirà di nemici qua probabilmente io sono senza nulla no oh dei tardi posso farne un esplosivo va là guardalo qua ok proseguiamo ancora un po' vediamo se mi fa un checkpoint e vabbè ho la luce spenta magari non mi vedono ma sta strisciando quel tizio mi ha visto sì ma non spreco un esplosivo per te amico che problemi hai perché stai strisciando che i topicorn no sei ancora vivo però ti brucio sento che ce ne sono altri allora qua c'è del gel e va bene scusate se non accendo la luce qua ma voglio io voglio provare così senza usare proiettili mi lasciate qualcosa no non mi lasciano niente sono proprio degli stronzi però vi brucio perché non mi fido di voi ok ne ho solo due però adesso non li spreco più qui cosa succede devo abbassare ancora questa ok ancora sto posto wow un mega boccione devo arrivare lì anche se la zona non mi piace ok niente ok ragazzi però stiamo andando troppo avanti quindi stoppo qui e ci vediamo nella prossima parte bye